Fare di Foggia un laboratorio per lo studio dei fenomeni criminosi collegati al mondo dei più piccoli. Un programma ambizioso, quello degli organizzatori del corso di alta formazione su criminologia e devianza minorile che partirà a settembre, rivolto ad avvocati, psicologi, medici, educatori professionali, assistenti sociali e giornalisti. L'iniziativa è stata organizzata da GEFORM, società impegnata nella formazione professionale continua in collaborazione con la Camera Minorile di Capitanata. Il corso si svilupperà in più moduli, con lezioni, dibattiti e confronti con gli esperti di una materia complessa che approfondisce un mondo costituito da una rete di implicazioni psicologiche, aspetti legali e ruolo delle agenzie educative. Saranno analizzate le cause e le conseguenze di fenomeni come il bullismo e il cyberbullismo. Sono segnali di disagio sociale crescente, richiedono un'assunzione di responsabilità collettiva il che significa essere in grado di leggere la domanda che viene da questi ragazzi, la domanda di aiuto e di sostegno quindi formarsi in maniera molto seria e professionale. I corsisti potranno conoscere il sistema della giustizia minorile, analizzare le esperienze e la casistica italiana con dati, numeri, eccellenze e punti di debolezza. In programma ci sono anche simulazioni, test e laboratori per conoscere i tanti aspetti della criminologia e della devianza minorile. L'obiettivo di GEFORM dal primo momento è quello di poter dare con i nostri mezzi e con il nostro lavoro un valore aggiunto alla nostra città e di metterci comunque il nostro impegno per poter migliorare le cose.